Musica Ciao ragazzi e benvenuti in questo video Oggi ci troviamo qua su Clash of Clans molto velocemente per farvi vedere che è arrivato un nuovo aggiornamento e con si è portato un nuovo bug Non so se funzionerà anche a voi ma a me sta funzionando e infatti grazie adesso a risorse infinite Vi spiego in breve come funziona Per vari motivi preferisco squirarvi il nome del mio villaggio Però comunque sono qua dentro, vi faccio vedere brevemente come funziona Io ero in attivo perciò avevo tante risorse che mi hanno preso e quindi il carretto qua dice che ho queste risorse Io le prendo Poi mi dice che mi mancano solo questo e se vedete con la barra piena è perchè l'avevo già provato ad usarlo Ora vi spiego bene Allora vedete che qua non c'è più l'elisir nero e l'elisir normale Benissimo, ora andiamo a visitare qualcuno E poi torniamo al nostro villaggio In questo modo siccome potete benissimo vedere al carretto ci saranno di nuovo le risorse Ragazzi vi giuro funziona ma in una maniera incredibile E vi dico anche dei consigli per accumulare facilmente l'elisir e tutto Non fate come molti che inizieranno subito a inziarli a spendere come capita Allora questo bug verrà fixato velocemente ne so più che sicuro Allora ciò che faccio, ciò che ho fatto io Mi sono preso tutte le bandiere che valgono 100.000 per uno così quando mi servirà le farò riprendere Stessa cosa anche con le statue che valgono 3.000.000, 1.000.000 non mi ricordo Poi ho iniziato a riempire gli accampamenti e anche le vedete qua Così vorrò decidere sempre cosa fare Perfetto E quindi dovete cercare di utilizzare nel miglior modo possibile le risorse Va bene ragazzi il trucco è questo Io mi metterò a dover farlo Rifacciamolo velocemente Come avete potuto vedere a riconsumere Va bene quindi il trucco è questo Non è server privato niente E sbrigatevi ad usarlo perché verrà fixato molto a breve A breve penso E niente Al prossimo video Ciao